Ciao a tutti ragazzi, per risolvere questi problemi riguardo alla condivisione dello schermo nero quando condividiamo lo schermo, andiamo un attimo su voce e video scendiamo fino a giù, fino a trovare l'opzione OpenH264 Codec Video da attivato mettete disattivato, scendiamo fino a giù utilizza la nostra tecnologia più avanzata per condividere lo schermo attivato mettete disattivato, sinceramente se avete problemi proprio a condividere lo schermo togliete queste spunte perché non vi faranno altro che leggare e avere più problemi se invece volete condividere lo schermo a qualcuno attraverso un video che state guardando su Google Chrome andiamo un attimo su Google su impostazioni sistema usa accelerazione hardware quando disponibile io la tolgo e riavvio Google Chrome una volta fatto ragazzi se il video vi è stato utilissimo vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale e se avete altri problemi non esitate a commentare noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao